Ecco il nuovo sito dell'ente nazionale Sordi. Grazie ad una nuova veste grafica, un layout ed una user experience rinnovati è diventato ancora più accessibile. In ogni pagina c'è un tasto accessibilità, l'icona con l'omino, che permette di adattare il sito a seconda dei propri bisogni, ad esempio ingrandendo il testo, cambiando il font o modificando il contrasto per un'esperienza di lettura piacevole. Altra novità è la presenza dell'icona delle mani che segnano. Cliccando sull'icona si aprirà un video in lingua dei segni italiana, sottotitolato e messo in voce. Potrete navigare su un sito bilingue. Poi gli utenti troveranno in evidenza nella home page i collegamenti alle piattaforme di pubblica utilità Comunic Chiocciola Enz e Sistema 112 Sordi e allo sportello telematico, una pagina interna dove sono raccolti i link più utili per permettere una agile navigazione alle persone sorde e alle loro famiglie. Ma non solo. Il nuovo sito Enz, infatti, è pensato per essere fruito solamente dalla comunità sorda? No, anche chi non conosce l'Enz o non è mai entrato in contatto con la sordità potrà agilmente comprendere quali sono le nostre attività e posizioni, i nostri punti di vista, le nostre istanze e trovare informazioni utili sulla sordità. Un'altra innovazione. Cliccando sulla voce Notizie nel menu, si accede all'archivio. Qui potrete cercare qualsiasi parola sfruttando il potenziato motore di ricerca. Poi, grazie alla presenza dei tag e delle categorie, l'utente potrà navigare agilmente fra le notizie e restare sempre aggiornato. Buona navigazione! Fateci sapere cosa ne pensate mandandoci commenti, osservazioni e suggerimenti.